contro quello che loro stessi definiscono dopo due voti favorevoli, una legge elettorale che non va bene. Ci sono state altre opposizioni, Presidente, che addirittura in questa sede hanno impedito, in seno a qualche decreto, l'accesso al voto, ovvero l'opposizione si fa anche in modo forte, questo è del tutto evidente, ma non ho visto, Presidente, delle appunto la fortunata coincidenza. La dittatura si è messa la città e la legge elettorale proposta per la Camera segue esattamente la stessa logica. I cittadini non eleggeranno direttamente il premio, scelta che avrebbe giustificato il doppio turno, che altrimenti serve solo a...